in seguimento in biblioteca andiamo dove devo andare allora ho capito un po perdere tempo però devo vedere dove andare prima eravamo arrivati da qua quando vedi lampeggiare di quindi y eccoci qui c'è un eco bene vogliono william giustivo se non oppure resistenza e prego lasciate mi posso chiudi quella forma chiudi quella cazzo ok ok il capo bene andiamo da dove devo andare però mi piace acqua su eccola qua vai e che è successo lb premi per effettuare una schivata temporale lb si schiva la posso fare ah ah ma l'ho fatto fuori hai incontrato bett walde e aspetta perché ci riprovo ci riprovo senza ombra di dubbio vai allora schivata temporale ok non riesco a vedere bene il mireno eh eliminate il civile eccolo ora lo vedo maremma che dolore vede rosso vede rosso non è positivo quando uno vede rosso almeno io non c'è non c'ho il colore preferito riprendi riprendi l'energia no 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 la granata no basta a queste granate oh scappa 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 ancora chi è che mi sta sparando un altro meredette granate oh schivata temporale funzionata oh no sbagliato ho sbagliato in copertura ci va da solo devi premere i tasti se no sali schivata temporale aiuto 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 eccolo oh muori oh ce l'ho fatta che cazzo succede lì dentro ai 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 no 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 a girare il bersaglio c'è un computer capo pure c'era dove sei vale e altro attacco fatto fuori basta è qui cosa c'era la biblioteca queste sono munizioni raggiungebile cerca vai 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 dove sarà la biblioteca vediamo ah qui c'è un eco perché portare questo stronzo la biblioteca il trasporto aereo e iniziazio dovremmo già essere fuori di fuori di trasporto la macchina del tempo la state portando via ho detto di tacita c'è stanno a fregare pregetto non va bene non va bene qui stanno a combinare qualcosa di più grosso e più grave anche questo che succede cosa ancora non sapevi che la wilder ti stesse aiutando chi non era l'unica chi ci sta aiutando la wild che era bet ora io ho imparato il nome sono dimentiato che è un po' di concentrazione 3.3 per una schivata del campo se è rimasto a luglio hanno togliato la corrente dove va ma aspetta aspetta lp quale è lp mamma mia c'è troppa gente e uno di qua e cappero allora uno è là mi servirebbe tipo un mitra non lo so a lp lp ma le spalle dove le spalle no non c'è nessuna le spalle eccolo lì muori cavolo 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 è il momento senta pazienza sono tre dov'è vale tre carica vai perfetto è lì oh ma che fai oh vai aspetta lì ah ma ci avevo il mitra testuggine ok allora configgi nemici nella caffetteria bene prendiamo un po' di munizione in parte la pistola ce l'ha infinite va bene va bene vediamo dove sono sono qua giù anche dietro ma dove scende dalle scale di qua va bene vai oh mi ha fatto paura poca paletta ma che sei grullope davvero facciamola super vai ecco ti ah pensavo tu uscissi da di qua eccolo lì al sedere ti volevo sparare ma vai ciao uno è là aggiratelo ah ah ricarica vai eccolo lì ai 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 fermi fermi a te t'aspetto qui al varco e ho finito i nemici speriamo ok devo andare nella biblioteca non è che c'è qualche documento da prendere no vabbè non importa continuiamo continuiamo perché mi avete portato qui è una biblioteca devo restituire del cazzo di libri comando william joyce nella biblioteca l'abbiamo aspetta l'hanno portato la pensate di mirare devo trovare un modo per entrare ok cerchiamo da giù da vediamo un po' deve esserci un altro ingresso cerchiamolo dove sarà vediamo da dietro magari c'è qualcosa dai ecco premi a per saltare oppure a per arrampicarti ok a a controlliamo lì ho visto c'era del giallo non so che cosa potrebbe essere non ho contenuto speso solo ah oggetti da storia uno di uno trovato questo ce l'ho fatta completare forse la situazione abbia preso una brutta piega la manifestazione anti monarch non so cosa sia successo esattamente ma c'era voce che le guardie private al soldo della monarch abbiano sequestrato gli strumenti ah hanno sequestrato gli strumenti e si parla di uno sconto a fuoco va bene va bene va bene va bene allora premi a per salire non si può salire di qui no di qui non si può salire qui questo si può azionare no dove potrebbe essere l'accesso qua no no non ci si può acchinare no premia di qui non si può salire forse da qui si devo saltare qui posso risalire eh ma devo saltare credo si no no camise viaccia devo riuscire a rallentarla come la rallento? con aspetta cos'è racco? ok ah ce l'ho fatta perfetto ah ecco qua la scala eh qrb si rallenta lb invece poi ce l'ho scatto me lo devo ricordare qui stiamo sempre prendendo confidenza con i vari tasti bene x entriamo dentro mi piace questa storia molto livellivolo 1 il nucleo della macchina del tempo è in viaggio eccoci chi è che l'ha fatto fuori? busti che botta che diavolo succede qui? eh non lo so non lo so trova Will troviamo il fratello di sotto vediamo facciamo un po' di giri pescale oh c'è già l'ansia attendiamo non c'ho bombe toh mori forse sono un po' troppo vanno sottare la biblioteca ora vieni vieni e vai come l'ho andata così scoperta così aspetta 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 ricarica no c'è solo 83 ok fammi cambiare pistola per favore cioè vado sulla pistola magari da lontano dove sei? va bene allora scendo ha le gambe si vai cambiamo mi rimetto il mitra pistola di grosso calibro ma cambiamola dai vai vai vedete vai si si vai vai mi piace colpo era più possente almeno dal rumore allora troviamo questo fratello di qua oh qui c'è un eco qui c'è un eco però come lo attivo dov'è il punto di attivazione? no no niente mi sono sbagliata ok entriamo qua dentro e facciamo del macchueo oh oh bordo mamma mia qui sono tatti ragazzi premi B per creare uno scudo temporale pure lo scudo ma allora B RB mamma mia c'ho da prendere via con questi tatti grande ok dov'è ecco l'acqua c'è un po' rinculo un po' grossa questa pistola ma va bene ecco lì mamma mia ma Ale però c'ha due quattro colpi c'ha meno colpi oh fermi c'ho da guardare l'arma Ale Ale ah ho premuto lo scudo bene meno male Aia da dove da dove da di qua oh vieni preso qualcuno ho preso nessuno vabbè forse quello davanti si Ale forse è meglio che faccia un atto alla volta perché vabbè non lo so se non c'è ferito si perché se non si prolungano un po' troppo ho mucchi di nuove robe senza senso che devi spiegarmi prima tirami fuori da qui allora perché vai premio sto premendo x però ah ecco devo proprio cercare il punto di mi dica l'ai dobbiamo dobbiamo spiegarci dov'è la mia auto è sempre là nel parcheggio prendiamone un'altra no c'è mi serve ancora sopravvive all'imboscata cos'è tu cos'è tu ok no 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 il pc da pompa non mi piace da dove da dove arrivano da di là la forza paletta non era carica eh meno male ce ne sono ancora ce ne sono ancora scappero ce ne sono ancora sì addietro e vai ce l'ho fatta la faremo ci serve la valigetta poi cercheremo betwiler perché e chi sarebbe sa della frattura eh infatti la c'ha infatti non ci ha sparato prima allora di qualcuno ti fidi ottimo non è così semplice Jack ti ho nascosto informazioni per tenerti al sicuro al sicuro guardati attorno will ti sembriamo al sicuro non è colpa mia beth mi aveva detto che sarebbe successo e ho fatto il possibile per evitarlo e a me cosa hai detto niente è che non potevo da quanto lo sai facci 10 non c'è tempo non c'è tempo per questi discorsi bisogna recuperare la valigetta vai intanto le munizioni ho prese so a carica so a carica vai ora vediamo vi fa poco macello eh arriva subito la macchina lo sto dicendo alle guardie muoviamoci prima che ne arrivino vai vai è lui ma il nostro amico ma ma che capperuccio ma anche lui che attore è la mamma la mamma che botta ma anche lui c'ha superpoteri allora che ti è successo che stai facendo quanto è qua 25 minuti dopo la frattura del tempo pensaci non hai idea delle conseguenze conosco esattamente le conseguenze per questo sono qui ma che capperuccio sta succedendo mi sto dando l'opportunità di cambiare idea gli eventi sono già decisi non puoi cambiare il passato il futuro io li ho visti li ho vissuti per 17 anni come? per 17 anni eri tu il primo esperimento puoi unirti a me e realizzare il mio piano puoi accrapparti alla speranza e affondare aspetta ho un dispositivo posso fermare tutto davvero non mi puoi come ho pensato è una follia non costa nulla infatti invece sì per questo non posso rischiare che tu mi fermi ah ma perché non volevo essere fermato ah ecco ho scoperto il motivo non dobbiamo permetterlo non mi arrenderò mai ho impiegato anni ad accettare ciò che andava fatto ma ora non c'è tempo aspetta ehi ragioniamo ragazzi cioè no no ha detto innescato ma come porca paletta no 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 infatti lo diceva anche io ma chi me lo guarda l'amico ah ma c'è dell'amici e vai e ho finito l'atto 1 olè benissimo questo video è un po' più lungo però così abbiamo finito tutto il primo atto spero vi sia piaciuto fatemi sapere come sempre commentate iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto e ciao a tutti